Weeey! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Weeey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi finalmente oggi è il gran giorno! Perché è il gran giorno? Perché oggi arriva la prima patch ufficiale del capitolo 2 stagione 1 di Fortnite! Già in game è presente circa da ieri sera il messaggio che dice che addirittura ci sarà un downtime dei server Questo non era previsto sinceramente perché sapevamo che il downtime dovrebbe essere settimana prossima Invece probabilmente hanno deciso di anticipare si spera per fixare un sacco di problemi che molti dei pro player ma anche molti giocatori cominciano a riscontrare pesantemente per quanto riguarda le meccaniche di gioco Nel video di oggi parleremo oltre ad alcuni primi elementi ufficiali che posso dirvi che verranno fixati con la patch 11.01 Anche finalmente dell'arrivo del Mythic Goldfish Ne abbiamo parlato un po' in questi giorni come vi anticipavo la community continuava a spingere sul fatto di volerlo in game quanto prima Ed ecco finalmente che è arrivato potete già trovarlo vi farò vedere un pochettino E' devastante abbiamo anche un bellissimo gameplay e ovviamente un altro argomento mega interessante Siamo vicini ad Halloween siamo vicini al Fort Nightmares voglio parlarvi di Ghoul Trooper Di quello che si parla ovviamente in giro per la rete arriva non arriva ce l'abbiamo chi lo sa Prima volevo ringraziare però tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono durante le live su Twitch dalle 8 alle 18 E anche a tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator Xioderone Grazie mille ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi ai canali e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Prima comunque la domandina ve la devo fare grazie a tutti quelli che hanno risposto ieri ai commenti Nei commenti qua sotto domanda di oggi molto personale Qual è la tua skin preferita di livello 100 dalla season 3 a questa primo a questo prima season del capitolo 2 Ci sono delle skin ovviamente arrivando a livello 100 del pass battaglia La mia preferita John Wick mi piace veramente tanto reputo che sia veramente un capolavoro Mi piace un sacco ce ne sono altre molto belle ma John rimane sempre John Mi raccomando i vostri commenti qua sotto Ma quindi ciancio alle bande E bando alle ciance andiamo subito a parlare dell'argomento più caldo di questi giorni Quello che fa infervorare un pochettino tutta la community di Fortnite Sta Ghoul Trooper Arriva o non arriva? Beh ragazzi l'anno scorso nessuno se lo aspettava Ma dopo aver spinto tantissimo Io non so quanti di voi c'erano Ma ragazzi non si parlava che di Skull Trooper In chat, nei forum, sul sito di Epic Nei commenti, ai tweet di Epic Epic ha rilasciato lo Skull Trooper Adesso state facendo un po' meno Se devo essere sincero Comunque la strada è quella giusta Spingere per chiedere la Ghoul Trooper E arriva un messaggio molto interessante Da uno dei leakers mondiali più importanti Che chiede? Che dice? Sempre di qua Anche a lui mandano ovviamente tantissimi messaggi Per quanto riguarda l'arrivo della Ghoul Trooper Lui dice esiste in game E già lo sapevamo Una skin che va a richiamare la versione maschile Della Ghoul Trooper Però in realtà esiste solamente il nome Non c'è la skin vera e propria E' anche vero che potrebbe essere rilasciata con la patch Di questa mattina alle 10 se non ricordo male Come al solito buttando giù la patch Però avrebbe molto senso che invece quest'anno Rilasciassero la Ghoul Trooper Facendo lo stesso discorso che hanno fatto con lo Skull Ovvero sia Chi ha la Ghoul Trooper dall'inizio Ottiene una versione che ha solamente lui Questo metterebbe d'accordo un sacco di persone Come hanno fatto bene con lo Skull Trooper Sarebbe sicuramente una cosa da fare E non ha molto senso sinceramente che non lo facciano Ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento E volevo appunto E' sempre di qua E volevo appunto ragazzi Aggiornarvi sulle varie patch Sulle varie patch Allora domani a oggi Arriva la 11.01 La prossima La 11.10 Che non avrà il downtime Arriva il 29 ottobre Quindi proprio prima del Fort Nightmares La nuova con la patch È Anzi è il content update del 5 novembre Quello che vedrà inserito il pacchetto Darkfire Bundle E secondo loro Anche il 12 novembre Ci potrebbe essere Già un secondo aggiornamento Della patch 11.10 Staremo a vedere se veramente Avranno intenzione di lasciarci Due settimane Senza Fare un downtime dei server Quindi senza nessun aggiornamento Ma come vedete Alle mie spalle C'è il Fort Nightmares E ragazzi abbiamo la data ufficiale Anche quest'anno Il Fort Nightmares Arriverà E sarà Il 29 ottobre L'anno scorso Ci avevano regalato Un bel po' di oggetti Nelle sfide Insieme all'uscita Della skin Morta Fiamma Una delle Forse la prima La primissima skin Reattiva Cioè Più andavi avanti Nel game E più la skin Prendeva fuoco Aveva delle fiamme Verdi Quindi cambiava Insieme al backpack Ci avevano regalato Il deltaplano Il motore oscuro E tante altre piccolezze Probabilmente faranno lo stesso Anche quest'anno E andiamo avanti Con il prossimo Argomento Ragazzi Eccolo qua Il nostro pesciazzo Il nostro pesciazzo Miticazzo Nel senso Ne abbiamo parlato Per un po' di giorni C'erano delle voci Che dicevano Non è in game È in game Quanto fa Quanto non fa Il pesce Ragazzi È presente Finalmente lo hanno Lo spezzone Che sta per arrivare Dove il giocatore Tiene in mano Il goldfish E ragazzi Fa 200 Di danno Devastante anche Come va a chiudere La partita Con un 200 Violentissimo Qualcuno diceva Che togliesse 90 Io avevo sempre detto In realtà Nei file di gioco Si parlava di 200 Così è stato E quindi ragazzi Preparatevi Alle grandi pesche E arriviamo oramai All'ultimo Post All'ultimo topic Di oggi Ragazzi Alcune informazioni Sull'update Che arriverà Fra pochissimo Noi saremo in live Ovviamente Su twitch Vedremo tutti I leaks Insieme In modo da capire Che cosa vogliono aggiungere Magari metteranno anche qualcosa Relativo proprio Ad Halloween Prima del fortnightmers Alcune modifiche Alcuni bug fixati Che già Il primo succede anche a me Alcuni amici Non vengono mostrati Nella lista Degli amici Quindi Sistemeranno questa cosa Dopo che un giocatore È eliminato In una partita In squadra Il Qua c'è scritto Il ready up button Ok Il bottone Per mettersi pronto Non appare E quindi Non si può Rifare una partita Successiva Effettivamente Non c'è più Neanche nelle partite In singolo Lo sto notando Nelle due Sì Quindi fixeranno anche Questo problema Abbiamo anche Un altro problema Fixato Se regalate il pass battaglia Ad un vostro amico Molte volte Non viene dato All'amico Lo spray Che abbiamo ottenuto Invece noi All'inizio Di questa stagione Di questa stagione E hanno Anche Un problema Per quanto riguarda Delle medaglie A volte Tendono a rimanere Fisse Sullo schermo Ed effettivamente Danno fastidio Chiusura Dei bug Fixati Che sappiamo La medaglia Fai un'eliminazione Da 50 metri No Questa è la challenge Delle sfide Fai un'eliminazione D'oltre 50 metri A volte Se la fate In duo O in squad Non vi viene Conteggiata Quindi sicuramente Sistemeranno E verrà data A tutti quelli Che se la meritano Ma ragazzi Io vi ringrazio Tantissimo Per aver guardato Anche questo video Mi raccomando Un bel like Non dimenticatevelo Noi ci vediamo Alle 8 In live su Twitch Con la pace Ciao